E' l'ultimo estremo gesto d'amore, quello di Pamela Di Lorenzo, donare cuore, polmoni, fegato, corne e reni, salvando la vita a pazienti tra Napoli, Torino, L'Aquila e Roma. E' in corso all'ospedale Mazzini di Teramo in questi momenti la procedura del spianto degli organi, così come deciso da Pamela in vita, così come condiviso dal compagno Alessandro e dai suoi familiari. Ieri pomeriggio è stata dichiarata la morte celebrale della 42enne colpita dal fulmine del Badriatico allo scorso 3 agosto e oggi sono arrivate a Teramo le varie equip per l'espianto. E' anche il giorno del dolore ad Albadriatico, un lutto che stringe un'intera comunità attorno al compagno e al figlio di appena 10 anni, ma è anche il giorno in cui la famiglia inizia a chiedere giustizia. Il legale della famiglia ha presentato un esposto sia alla compagnia dei carabinieri di Albadriatico, sia alla procura di Teramo affinché parta un'inchiesta per il ritardo nei soccorsi, ma anche per l'assenza del defibrillatore. Pamela Di Lorenzo quel sabato mattina, quando il fulmine l'ha colpita insieme ad altre due donne sulla spiaggia libera tra il piccolo chalet e il Caraibi, aveva subito un immediato arresto cardiocircolatorio. Provvidenziale era stato il massaggio cardiaco praticato da un turista di un lido vicino con esperienze nel settore sanitario, ma del defibrillatore non vi era traccia in diversi stabilimenti. Uno poi era stato recuperato proprio mentre arrivavano i sanitari del 118 con la loro strumentazione sanitaria. Il resto è cronaca di un disperato volo in ambulanza fino a Teramo e poi nove giorni in terapia intensiva, in condizioni gravissime ma stazionarie, fino al peggior epilogo, ieri pomeriggio con il suo decesso. Con l'esposto presentato nelle scorse ore, la famiglia pretende di capire se, in qualche modo, se Pamela fosse stata defibrillata subito, si sarebbe potuta salvare o meno. Lei intanto sta per salvare altre vite con l'ultimo straordinario gesto di estrema generosità.